Un ben trovato a tutti a questo appuntamento della serie Cinema e Psichiatria in cui illustro aspetti di psicopatologia attraverso il cinema. In questo come in altri di questi interventi parlo dei disturbi di personalità. I disturbi di personalità sono disturbi che presentano la caratteristica di essere presenti nel corso di tutta la vita, non ci sono forti variazioni nel corso della vita, ma sono dei tratti caratteristici che producono sofferenza e producono sofferenza soprattutto negli altri, ma dei quali questi tratti non vengono riconosciuti in genere da parte di chi li porta, vengono anzi considerati come del tutto naturali. Il problema è che generano sofferenza negli altri e soprattutto hanno caratteristiche di rigidità, cioè mentre noi ci comportiamo e cerchiamo di comportarci in maniera da modularci rispetto alle contesti, alle situazioni, alle relazioni interpersonali, ci comportiamo in maniera diversa, ci adattiamo insomma al contesto, ecco il disturbo di personalità è caratterizzato di per sé da una rigidità, cioè da un ripetersi di comportamenti che rimangono sempre gli stessi indipendentemente dal contesto e quindi paradossalmente possono essere anche molto utili e consoni rispetto a determinate altre situazioni, ma sono fortemente dissonanti in altre situazioni, ma chi ha presente a questo tipo di disturbi in realtà si comporta sempre nella stessa maniera. Ecco in questo incontro vorrei parlarvi di un disturbo che è il disturbo narcisistico di personalità, il problema del narcisismo che è poi fondamentalmente il tema è quello della stima, autostima che uno ha di sé e in genere il disturbo narcisistico esprime una carenza di autostima che quindi necessita di comportamenti che sono quelli volti a cercare di recuperare questa autostima ma sfruttando gli altri. Ecco il disturbo narcisistico di personalità è proprio caratterizzato da questo, da uno sfruttamento degli altri, una mancanza di empatia rispetto agli altri per cui la sofferenza altrui non viene percepita, un senso di grandiosità, un senso di potenza, la sensazione di essere speciale e unico, ma la necessità di ricevere da parte degli altri tutti, tutte le attestazioni, manifestazioni di apprezzamento e di valorizzazione. Se uno non lo fa viene semplicemente eliminato, si cercano invece le persone che danno questo tipo di sensazione. Un altro aspetto in questa dinamica e in questa sensazione di necessità di potenza, di valorizzazione è quella dell'invidia dell'altro. L'invidia dell'altro se l'altro, se la persona con disturbo narcisistico riconosce o assente di poter riconoscere delle qualità di qualche tipo, sviluppa un'invidia e cerca in genere di distruggere l'altra persona. Ora, e quindi tutto questo poi genera atteggiamenti di tipo arrogante. Ecco, però bisogna anche fare una distinzione, perché all'interno del disturbo narcisistico di personalità riconosciamo in realtà due tipi di manifestazioni diverse. Uno è il disturbo narcisistico overt, cioè aperto, scoperto, palese, in cui questo tipo di grandiosità è molto evidente e quindi corrisponde alle caratteristiche che vi ho detto fino adesso. E c'è poi quel tipo di disturbo narcisistico cosiddetto covert, cioè nascosto, in cui la grandiosità è interna, in cui la persona non manifesta apertamente tutte le sue bisogni di apprezzamento, di valorizzazione e quindi ha un atteggiamento nascosto, un atteggiamento che si ritrae, ma continua a essere presente tutto il comportamento, le sensazioni di tipo necessità di essere fortemente distruttivi rispetto agli altri, distruttivi nel senso di cercare di… c'è un gioco, gli altri vengono utilizzati ai fini del proprio gioco e indipendentemente dai sentimenti che possono generare. Ecco, per esempio, un film che io trovo rappresenti abbastanza significativamente questo narcisismo covert è Un cuore in inverno di Closoté, in cui c'è Daniele Ottui e la Emanuele Beard. Daniele Ottui ha in persona questo personaggio che è molto ritirato, apparentemente privo di sentimenti, è stato anche descritto come un disturbo schizzoide, c'è una persona molto ritirata, privo di sentimenti, questo è sicuramente anche vero, ma ci sono anche degli altri elementi caratteristici, e cioè l'invidia c'è rispetto a… lui è un liutaio e si pone in antagonismo, in maniera nascosta rispetto al suo alleato, l'altro liutaio con cui ha sempre collaborato, ma scatta l'invidia nel momento in cui l'altro si innamora di Emanuele Beard, allora lui deve conquistarla. Ecco, questo non è tipico dello schizzoide a cui non interessa l'esterno, no, qui c'è un gioco perverso da parte di questo protagonista, per cui deve conquistare l'Emanuele Beard e ci riesce, tanto che lei si innamora, ma a quel punto lui le manifesta il fatto di non sentire niente per lei e che è stato tutto un gioco. Ecco, questo tipo di manifestazione è proprio tipico di quello che descriveremo come un disturbo narcisistico covert. Detto questo vi parlo invece di due film, uno in particolare, che sono una manifestazione molto evidente insomma del disturbo narcisistico overt. Adesso in questo momento mi viene anche in mente il Brancaleone alle crociate, ecco, per dire insomma come un personaggio grandioso necessitante di gloria. Ma mi soffermo invece uno su due film, uno è Quarto Potere, Quarto Potere è il film del 41 di Orson Welles, Quarto Potere è un film straordinario ed è stato più volte indicato al vertice della classifica di tutti i film di tutti i tempi, è stato messo al primo posto più volte e qui c'è, è bello perché c'è tutta la storia di questo protagonista che è un capitano d'industria, una persona che da una condizione di eradicamento dai propri genitori, perfini puramente economici, costruisce un impero. Ma costruisce un impero attraverso i giornali, ma sempre con l'idea che è lui il protagonista, che è lui che dà agli altri e che gli altri gli devono riconoscenza quindi. E quindi quando alla fine fallisce perché è appunto in quanto disturbo narcisistico, non sta alle regole, pensa di poter fare tutto, bene a un certo punto fallisce e in un dialogo con il suo collaboratore, ammette di essere incapace di amare se non alle sue condizioni, cioè è tutto sempre riferito a se stesso. È una storia bellissima, straordinaria, su cui non mi soffermo, con un finale anche in qualche maniera a sorpresa. Il film è del 41 di Orson Welles, che è regista e anche protagonista. Ma il film su cui mi soffermo è un altro film assolutamente straordinario. Io forse penso che è il film a cui sono più legato. L'ho trovato da sempre straordinario. Il protagonista è interpretato da Gian Maria Volontè, al vertice della sua capacità attoriale. Il film è di Elio Petri e del 70 ed è indagine sul cittadino al di sopra di ogni sospetto. Qui la storia è quella del capo della polizia di Roma, in un'epoca tremenda. Il film esce, è un protagonista assolutamente negativo, capo della polizia che commette un omicidio, commette un omicidio perché la donna con il quale lui aveva dei rapporti, a un certo punto gli fa una critica, gli dice appunto sei come un bambino. Questa ferita per lui è insopportabile. E quindi all'interno di un rapporto perverso eccetera la uccide, ma la uccide con l'idea che lui non potrà mai essere accusato perché è la stessa espressione della giustizia, della forza pubblica e quindi lui non potrà mai essere accusato perché gli altri comunque sono inferiori a lui, perché gli altri non ci arriveranno, perché lui è il più intelligente, il più bravo, il più capace e nella posizione anche di poter governare il tutto. Ma proprio per questo motivo dissemina di prove l'appartamento dove è commesso il delitto, prove contro di sé, proprio come una sfida estrema rispetto agli altri, alla polizia che continua a esercitare il ruolo del sapere dell'essere colpevole, ma allo stesso tempo di essere quello che inizia l'indagine che è contro se stesso. E quindi c'è tutto un gioco, una sfida, una perversione assoluta in tutto questo e con atteggiamento assolutamente sprezzante, perché poi lui diventa anche capo della polizia politica, viene anche promosso e quindi si rivolge in maniera sprezzante a colui che poi lo va a sostituire facendogli capire che insomma lui l'altro non vale niente, è lui quello che sa tutto, che è capace di governare tutto. Se non che poi qualcosa si incrina perché uno studente anarchico sa che in qualche maniera ha subodorato, capisce che è stato lui a uccidere la protagonista che tra l'altro è la Florinda Bolkan che era una bellezza stratosferica all'epoca, bellissima e bravissima, questo studente lo dice nel corso di un interrogatorio, sa che è lui, ma non lo denuncia perché nella sua ottica è perfetto, come dice esattamente lui, che il capo della polizia sia un assassino, corrisponde esattamente alla sua visione della società, questo però produce nel protagonista una sorta di sdoppiamento, cioè da una parte continua a essere colui che indaga, ma dall'altra parte è anche un'altra che è anche colui che si deve ammettere, deve confessare il proprio reato e lui lo dice a un certo punto in una frase che dice in quel momento ero combattuto tra il confessare la mia colpa e mettervi sulle mie tracce oppure usare il mio piccolo potere, ovviamente un piccolo per modo di dire, per coprirle, quindi c'è questo sdoppiamento, lui chi è a quel punto, l'assassino o colui che conduce le indagini, cioè il suo costrutto viene a perdersi e quindi si mette in una situazione, e qui è straordinario anche il finale di questo film che è un finale doppio nel quale uno riceve il questore e tutti gli altri papaveri diciamo della polizia, di chi indaga su di lui e in un primo finale lui viene perdonato, perché? Perché condannare lui significa condannare la stessa istituzione, ma questo poi si scopre che in realtà è la sua fantasia, ancora una fantasia grandiosa, una fantasia narcisistica grandiosa di far parte di un'istituzione che non può essere di per sé accusata. Il vero finale però è quello successivo dove a parte questo aspetto che è stato, questa scena che si rivela essere sognata, avviene in seguito. Ecco, però noi non sappiamo effettivamente come va a finire, possiamo immaginare, possiamo fare delle ipotesi, ma in realtà non lo sappiamo e quindi il tutto rimane, si rimane un po' con il dubbio che poi questo finale posticcio sia anche possibile che sia vero oppure sia tutt'altro. Bene, allora noi che cosa vediamo in questo personaggio? Ripeto, un'interpretazione fantastica da parte di Gian Maria Volontè, vediamo questo carattere puerile, perverso, questo grandiosità, senso di superiorità, disprezzo rispetto agli altri, la manipolazione, il controllo, il bisogno di ammirazione, un'autoammirazione anche molto, mancanza di empatia, cinismo assoluto, manovrare gli altri senza nessuna pietà direi e con la sensazione di una infallibilità percepita. Interessante, sono alcune frasi, il popolo che dice lui, il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare ed educare, a noi il dovere di reprimere, la repressione è il nostro vaccino, la repressione è civiltà. Oppure, quando parla ancora con la Florinda Volcan, dice tutti ritornano un po' bambini, segnatamente al cospetto dell'autorità costituita, insomma di fronte a me che rappresento il potere, la legge, la legge, tutte le leggi, quelle conosciute e quelle sconosciute, l'indiziato ritorna un po' bambino di fronte a me, io divento il padre, il modello inattaccabile, la mia faccia diventa quella di Dio, della coscienza, è una messa in cena, ma cosa credi? Queste sono le basi su cui poggia l'autorità costituita. E poi quando confessa, e in questa sensazione di grande ambivalenza, a un certo punto che si determina, dice alle ore 16 di domenica 24 agosto, io ho ucciso la signora Augusta Terzi con fredda determinazione, ho una sola tenuante, la vittima si prendeva sistematicamente gioco di me. Ho lasciato indizi da per tutti, non per fuorviare le indagini, ma per provare, per provare, per provare la mia insospettabilità. Tuttavia, quando hai fatto condannare al tuo posto un innocente, la tua insospettabilità non è provata. Ecco questa grandiosità, cioè il tentativo di andare oltre le regole, a un certo punto si rende conto che non lo porta poi ad una vera e propria soluzione. Allora la soluzione la deve trovare sempre all'interno della propria grandiosità, cioè confessare orgogliosamente di essere stato l'autore e in maniera però da giustificare il proprio atto. Bene, spero che questo film veramente lo andiate a vedere se non l'avete già visto. Vi ringrazio e vi do appuntamento per la prossima volta.